benvenuti, buonasera, siamo all'ottavo webinar di Niamo Imparo. Questa sera abbiamo come ospite la medica Elena Volongo che è nostra associata, nonché volontaria e ci segue da tantissimi tantissimi anni, con le abbiamo fatto già tanti laboratori in passato nella vecchia sede e questa sera Elena che è appunto un'illustratrice, una esperta in musicoterapia e arte e terapia. Adesso lascio la parola ad Elena che ci spiega un pochino di cosa si occupa e cosa faremo stasera, di cosa parleremo nello specifico. Ciao Elena. Ciao Mara, grazie, buonasera. Allora eccoci qua, stasera parleremo di quello che è l'approccio creativo, quindi del concetto di creatività e di quanto questo questo tipo di approccio si è applicato alla vita di tutti i giorni può portarci a fare delle scoperte interessanti che aiutano la nostra capacità di velocizzare quella che è la risoluzione di problemi anche pratici della vita di tutti i giorni, quindi non andremo a vedere la creatività solo in senso artistico, per cui la scolleghiamo completamente da quello che è il genio creativo artistico, dall'idea di qualcuno che crea un'opera d'arte e qualcuno che crea qualcosa di bello, ma la colleghiamo all'idea di qualcosa che ci aiuta a risolvere i problemi, quindi fa lavorare, sono problemi positivi per il nostro cervello, quindi questo è. Partirei dal chiederti e dal chiedere a tutti quanti, ognuno se lo pensi si risponda un po' in solitaria, che cos'è per te e per voi la creatività? Tu come la definiresti? Un'espressione, per me, un'espressione molto nascosta, un'espressione molto nascosta, io non... Allora, a livello artistico, come tu dicevi, separandoli, a livello artistico incapace totalmente. Dal punto di vista invece, credo si possa chiamare creatività, del fare, inventare, avere idee, eccetera, allora quello sì, magari ce l'ho. Però la creatività per me, che invece ho sempre legato più al dipingere, disegnare o magari anche creare proprio con le mani, malgrado io sia una manualistica, le cose artistiche non riesco a farle. Non sento di essere in grado di farle, forse perché mi confronto in questo senso. Sicuramente quando abbiamo fatto i laboratori con te, mi ricordo il mandala in particolare, il fatto di vedere alla fine delle due ore di laboratorio qualcosa di sviluppato sul foglio che è stato realizzato dalla fantasia, ma dal lasciarsi andare, mi ha aiutato a svuotarmi e a vedere sul foglio qualcosa veramente di bello. Eh sì. Questo sì, ecco. Esatto, innanzitutto la creatività in ognuno di noi, è per quello che bisogna scollegarla un po' dall'idea di, userei la parola artisticità, cioè nel senso non tutti siamo artisti, quindi non tutti abbiamo la possibilità di produrre dei manufatti di pregio, che possono essere anche delle composizioni sonore, piuttosto che delle opere d'arte, un po' per, come dire, per attitudine personale, ma ognuno ha qualcosa in cui è creativo e la creatività è in ognuno di noi. Anche nel momento in cui noi risolviamo un problema di matematica, siamo creativi perché attraverso l'approccio creativo stiamo cercando il modo per risolvere quel problema, quindi anche una persona che apparentemente si occupa di qualcosa di molto lontano a quello che è il campo artistico è creativa. Quindi andare a riscoprire quello che già noi abbiamo, perché non si diventa creativi, già siamo creativi, ma possiamo andare a portare fuori un pochino di questa creatività osservandola, perché è già dentro di noi, quindi andiamo a lavorare per portarla fuori, per riconoscerla di più, quindi non per creare cose belle, cioè poi se anche arrivano opere belle, cose belle, tanto meglio, ma non è strettamente necessario. Soprattutto una cosa importante che tu hai detto poco fa è io non riesco a creare opere d'arte perché magari mi confronto, quindi nel momento in cui mi confronto significa che sto adottando un giudizio e quindi anche un pregiudizio su me stessa io non sono in grado di fare, ma il punto è che in quello che è l'approccio creativo e quindi introduco quest'altra parola, creatività espressiva, dobbiamo porre attenzione a una cosa, ossia alla sospensione totale di quello che è il giudizio estetico, perché non è la finalità. Cioè se io voglio diventare un artista dovrò porre attenzione anche a quello che è il fine, a quello che è il prodotto finale, ma nel momento in cui io utilizzo la mia attitudine creativa per risolvere un problema è il percorso che mi interessa, non è l'arrivo. Certo l'arrivo sarà la soluzione del problema, ma è il percorso e quindi diventa creatività espressiva perché io vado a analizzare il percorso e sospendo il giudizio sul risultato finale. Di fatto diventa proprio come un vero e proprio mettersi alla prova e osservare quali sono i nostri processi e quali sono i nostri modi di andare a ragionare su un problema, di andare ad affrontare un problema e questa cosa ci aiuta sempre a trovare nuove strade a vecchi problemi. Quindi pian piano io più vado a lavorare sull'approccio creativo, più nel momento in cui devo risolvere un problema pratico magari mi arriva un'intuizione in modo più veloce. Perché ho detto il problema pratico? Munari definisce, fa una differenza importante tra creatività e fantasia. Io ho preparato il suo libro che è appunto Fantasia, questo è un libro qua di Munari, in cui definisce proprio questi due termini e ci dice che fantasia tutto ciò che prima non c'era anche se è realizzabile. Lui la graficizza in questo modo. Mentre invece definisce creatività come tutto ciò che prima non c'era ma realizzabile in modo essenziale e globale. Questa è la sua graficizzazione. Che cosa ci, quali sono le note, le cose che noti o che notate tutti quanti in base a queste definizioni? Che una è più la prima, almeno io personalmente ho visto la prima più, anche nella sua, come lui l'ha rappresentata. Una è più lineare e l'altra invece è molto fantasiosa, si può dire? Sì, fantasiosa, quindi irrealizzabile, mentre invece la creatività ha sempre un piede nella realtà, perché è realizzabile. È lì che diventa importante per aumentare la nostra capacità di risolvere i problemi quotidiani, che questo, qualunque tipo di problema, decidere come sistemare la dispensa in casa è un atto creativo, anche se è molto lontano dall'essere una cosa artistica. Poi se vogliamo fare una super dispensa artistica ci può stare, però se io trovo rispetto alla settimana scorsa un nuovo modo di sistemare i barattoli e che mi è più funzionale, io sto compiendo un atto creativo, anche se non è un atto artistico, ma è un atto pratico e quindi ho risolto un problema. Scusami, dal mio punto di vista penso che come me tante altre persone confondano queste due parole, perché come dicevi tu ci si mette dei limiti tali per cui uno diceva no, no, io artistico, no, io non c'entro niente come artistico o creativo, no, no, io non c'entro niente come creativo, perché lo lega alla stessa funzionalità, ma in effetti, in effetti dalla tua spiegazione, cioè sono due cose molto molto lontane o comunque diverse. Eh sì, perché sono e dipende dalla, come dire, la discriminante sta proprio nel fine, cioè artistico è quando io compio un atto creativo per arrivare a produrre un'opera artistica, che sia di tipo visivo, musicale o anche corporeo, perché la danza è un'arte, quindi in quel momento io sto facendo qualcosa di artistico. Nel momento in cui invece io vado a risolvere un problema pratico, che di artistico magari non ha nulla o poco nulla, ma anche nel momento in cui io scarabocchio, non mi interessa fare un bello scarabocchio, cioè nessuno probabilmente si ricorderà del mio scarabocchio nella storia dell'arte, ma quello scarabocchio ha aiutato me a porre il focus nel momento presente. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui io mi porto a esplorare quella che è la mia creatività e utilizzo magari il segno inizialmente, posso disegnare, usare degli scarabocchi, usare dei colori, usare delle parole. Sostanzialmente cosa sto facendo? Sto costringendo il mio cervello a lavorare tantissimo e gli sto dando da mangiare, quindi gli sto dando dei problemi positivi, esattamente come tu fai magari ogni volta che cucini. Quando cucini e magari non hai quell'ingrediente e lo vai a sostituire, quella è creatività. Giusto, sì, 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 pensandoci sì, le ricette sono atti creativi. La ricetta è un atto creativo, certo. Sì, cioè nel senso tutte le volte che vado a risolvere un problema, quindi nel momento in cui magari ho una ricetta in cui servirebbe, non lo so, l'uovo, ma imparo a sostituirlo con qualcos'altro, come insegniamo, cioè il mio amo fa anche questo, no? Questo è creatività. Quindi, insomma, è una cosa a cui porre attenzione. Quindi tu dici, scusami, una domanda. Tu prima parlavi di scoprire, no, non scoprire, la domanda è mia quella su scoprire. Tu dici cercare la creatività, ma io posso anche, nel momento in cui faccio determinati esercizi, scoprire di avere una creatività, perché tu hai detto che tutti ce l'abbiamo. Sì. Ok, molti di noi credo possono pensare di non averla proprio per niente. E quindi tu dici, nel momento in cui io dedico del tempo a questo tipo di ricerca, posso trovare la mia creatività o il mio modo di esprimerla? Sì, esatto, perché magari mentre sto dedicando del tempo a scoprire la mia creatività, mi accorgo che per me funzionano molto bene le parole, meno magari i disegni. Oppure, per me funzionano molto di più i suoni e non le parole. Cioè, nel senso, oppure su di me funziona il corpo, muovere il corpo in modo creativo, ma non il disegno. Quindi, ognuno ha delle sue, come dire, peculiarità. Per cui la creatività, o meglio, l'esplorazione dell'approccio creativo, ci aiuta a scoprire proprio quelle sono le nostre attitudini. Quindi, non è detto che quello che per me va bene a livello creativo vada bene anche per te. Certo. Cioè, probabilmente la tua creatività la esprimi in altro modo rispetto a me. Io disegno, tu cucini, oppure vai a lavorare in altro modo. Sì. Ma stai esprimendo la tua creatività. Lavorare sull'approccio creativo è portare alla coscienza questa cosa. Ossia, nel momento in cui sto cucinando e probabilmente trago piacere da quello che sto facendo, che cosa sto facendo? Sto allenando il mio cervello a problemi positivi. Quindi è lì che vado a rilassarmi, vado magari a provare piacere, vado a scoprire cose nuove. Perché l'atto in sé, che è il disegnare piuttosto che il cucinare, costringe proprio il cervello, lo dicevamo anche poco fa, a rimanere molto nel momento presente. Perché collega il mio essere qui al gesto. Quindi, perché non puoi, sì, puoi cucinare pensando totalmente ad altro, come puoi disegnare pensando totalmente ad altro. Sì. Però... Non viene bene. Non viene bene. Non viene bene, ma probabilmente poi non viene nemmeno. Cioè, nel senso, se invece collego il cervello a quello che è l'atto, anche solo scarabocchiando, scarabocchiando, in realtà mi concentro. Sì, sì, quindi sei qui e ora, nel senso sei subite e quindi questo è il collegamento con il benessere. Esatto. Perché vado anche a togliere magari lo stress, perché la testa non va ovunque, non vado a pensare alle cose che sono successe prima, a quello che succederà dopo, ma entro nello stato di flusso, quindi nel flow, quindi entro nella concentrazione. Certo. Il mio cervello lavora, 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 va a chiudere probabilmente tanti stimoli esterni e vado a concentrarmi. Ed è possibile anche andare a, insomma, ridurre quello che è il carico di stress, o anche solo attraverso l'atto di disegnare molto velocemente. Io vado a scaricare energia. Sì, vero. Esattamente come se io tagliassi molto in fretta delle verdure. Vado a buttare fuori energia. Allo stesso modo è probabile che, se disegno a onde molto morbide, vado a ricaricare, perché vado a rilassare. Così come se stessi, non lo so, mescolando una zuppa piuttosto che... Sì, 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 vero. Ci sono gli movimenti che dai, gli movimenti dove togli. Esatto. Carichi. Quindi possiamo usare, esatto. Quindi si usa la creatività e l'attitudine creativa e la creatività espressiva nei termini di andare a fare tutta una serie di esercizi esplorativi di quello che è il nostro potenziale creativo e proprio per andare a conoscersi. Quindi io so che il mio cervello in quella determinata frangente può lavorare in questo modo. Quindi magari se lo reputo interessante, se lo reputo piacevole, posso approfondire. E questo mi aiuta proprio a dedicarmi del tempo. Ed è lì che arriva poi il collegamento con quello che è un potenziale benessere. Sì, certo. L'arteterapia e la musicoterapia poi possono essere di rafforzamento a magari percorsi di psicoterapia. tante volte si usano in alcune cliniche piuttosto che altro, si usa proprio. Però per le persone che sono, si usa questo termine, normopatiche, quindi persone che non hanno particolari, come dire, problematiche, la creatività espressiva è comunque molto, molto importante e funzionale. Ti faccio una domanda, Elena. Gli hobby, quelli che noi chiamiamo gli hobby, fanno parte di questa, di questa, diciamo, di questo insieme di attività creative? Certo. Sì, sì, sì. Un hobby. Quindi l'hobby? Sì. Ok. L'hobby ti chiede. È un atto creativo di solito. Sì. A meno che non sia proprio magari quella cosa che ti porta a straniarti completamente dal mondo, però di solito lo usi in termini positivi. Sì, 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 certo. Sì, certo. Hobby come piacere di stare a fare quella determinata cosa. Sì, tipo il bricolaggio è una cosa creativa. Sì, sì, sì. Nel senso, anche l'utinetta è una cosa creativa. L'importante è che ognuno trovi il suo modo per esprimere questa... Certo, certo. ...questa cosa. Ecco, questo è l'importante. Perché è proprio il portarci nella pratica, non è solo immaginare, non è solo andare a fantasticare, ma portarci in una dimensione molto pratica. Quindi andare proprio a creare qualcosa, fregandosene un po' totalmente del risultato, perché non ci interessa. Ci interessa proprio andare a lavorare sul percorso. Il percorso prendersi del tempo e diciamo così farlo diventare uno scaccia pensieri e uno scarica pensieri. Sì, esatto, ma scarica pensieri, scaccia pensieri, ma anche uno porre attenzione. Sì, certo. A come mi sento, a come lavoro, a come funziona la mia testa. Ho un progetto che tu ben conosci, che sono le chiacchierate creative. Infatti, volevo chiederti... Esatto, in cui sei stata anche mia ospite, che è un progetto nato proprio all'inizio del primo lockdown, in cui mi sono trovata a risolvere un problema. Cioè, ho detto, tutte le persone che si trovano d'improvviso chiuse in casa, magari perdono socialità. Quindi, ho deciso di proporre queste serate di incontri di circa un'ora, che proseguono tuttora, quindi tutto sommato l'interesse c'è. La prossima mercoledì, vero? Mercoledì sera? Mercoledì sera, sì. Sì, il mercoledì sera al 18, di solito sono una volta al mese oppure due, poi magari diamo il contatto in qualche modo, in cui si lavora sulla creatività. Quindi c'è una parte di stimolo, come dire, un pochino più raccontata, un pochino più narrata, come stiamo facendo io e te. Magari a volte c'è un ospite e c'è una parte pratica. Quindi le persone si trovano a lavorare sulla creatività, mettendosi un po' alla prova con i propri strumenti, quindi con quello che hanno in casa, senza dover andare a avere degli strumenti particolari e non servono nessun tipo di competenza. anzi, è molto più probabile che, ad esempio, una cosa che si nota tantissimo è quando magari qualcuno, non lo so, io per lavoro disegno, è molto difficile liberarsi dagli schemi e dalle sovrastrutture, mentre invece magari qualcuno che non è abituato a disegnare lascia andare molto di più, perché riesce a sospendere l'autogiudizio molto meglio di chi magari per formazione e per professione va ad avere tutto il giudizio su quello che sta facendo. Sì, sì, certo. Quindi per una persona che magari è più abituata ad avere delle sovrastrutture, paradossalmente risulta più difficile lasciare andare e quindi andare ad esplorare, perché poi alla fine la creatività espressiva è una forma di gioco, cioè noi adulti non giochiamo quasi mai, mentre invece nella creatività espressiva serve giocare e quindi giocare è una cosa essenziale all'uomo, cioè anche quando è adulto, perché appunto va a lavorare su tutta quella parte che rimane viva, vivace, quindi rimane qualcosa che porta benessere in questo senso, cioè nel senso ci aiuta proprio a buttare fuori. Quindi nelle chiacchierote creative ci si può, dobbiamo scrivere a te per partecipare, perché non mi ricordo, scusami. Sì, allora su Instagram si trova il link per prenotare l'evento, sono eventi gratuiti, quindi dura circa un'ora, basta fornirsi di foglie, matite, quello che si ha in casa e collegarsi alle 21 e un quarto, 21 e 15 e mette, aver voglia di giocare. Allora magari domani, sai che a seguito dei nostri webinar facciamo un post il giorno successivo sulla pagina Facebook di Miamo con i tuoi riferimenti, magari taggerò anche la tua pagina in modo tale che chi è presente stasera e vuole partecipare mercoledì sera, ci sarò anch'io, lo fa, lo può fare semplicemente e velocemente. Perfetto, perfetto. Questo, insomma, a grandi linee questo è quello che è la creatività. Poi io invito tutti a domandarsi, ma io come la vivo la creatività? Quali sono proprio i miei pregiudizi sull'essere creativi? È solo una cosa che vedo per alcune persone, per alcune professionalità? Riesco a percepire dentro di me una, come dire, qualcosa di creativo? Nella vita di tutti i giorni io applico la creatività, queste sono le domande che mi invito a farvi. Ecco, quindi questa è la questione e proprio sperimentarla. quindi posso dare un piccolo esercizio. Sì, volentieri. Prendete un vocabolario, un libro, quello che vi capita, lo aprite a caso, scegliete una parola e provate a pensare che cosa per voi significa quella parola. Per chi vuole può provare anche a disegnarla o a capire quali sono i suoni ad essa collegati, come vive quella parola, che importanza ha quella parola a livello grammaticale. Perché? Perché tutte queste domande aiutano la testa a concentrarsi e quindi vado a osservare sempre di più che sono cose che noi normalmente facciamo in automatico. Quindi il nostro cervello lavora proprio in automatico in questo caso. Lo fermiamo, lo costringiamo a fermare. A sentire di più, a sentire anziché a prendere la testa. Esatto, quindi creatività è anche un po' aprirsi a questo tipo di stimoli. Quindi andare a indagare cose che noi abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, ma semplicemente non ce ne accorgiamo perché siamo abituati ad andare col pilota automatico. Quindi la creatività espressiva sempre serve un attimo a togliere questo pilota automatico e a farci portare qualche ragionamento in più, quindi qualche collegamento in più. Ecco, questo è. E io mi sento di aver detto, insomma, quando... Sì, bene, parecchio. Ok. Metteremo in pratica allora mercoledì sera. Mercoledì sera, sì. Sia questo che il prossimo mercoledì. Quindi il 18 maggio e il 25 maggio avremo due ospiti in quei casi. Quindi l'ho trovato sulla mia pagina Instagram o su Facebook. Chi vuole? C'è un gruppo segreto collegato alle chiacchierate creative. Qui ci sono tutte le informazioni. Si trovano anche altri spunti sulla creatività. E anche ogni tanto citiamo anche il mi amo, perché è stato grazie al mi amo che alla fine ci siamo conosciuti e che abbiamo fatto un sacco di laboratori. Sì, è vero, è vero. Bene, allora ti ringraziamo per la tua presenza, per il tuo tempo post lavoro, che si sente nel computer. E anche il laboratorio serale. Esatto. Chi vuole fare delle domande o qualcosa può scrivermi. O magari adesso interrompiamo la registrazione e chi vuole. Lascerò anche la tua mail poi a tutti. Esatto. Grazie mille. Grazie a te. Tanto Mara, lo spendiamo. Grazie a te. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata a te.